sulle frequenze di Radio Mondo Rete Solidale Buongiorno a tutti voi da Paola Mariangeli dal CS Pulazio da Radio Mondo per questa rubrica dedicata al volontariato. Oggi abbiamo in studio Valeria Patacchiola, referente dell'Arci di Rieti e abbiamo anche Antonella Liorni come referente del Samaritano collegato alla Caritas di Rieti Allora, buongiorno alle nostre ospiti ben arrivate e parliamo di tante cose tra cui anche la settimana del rifugiato che parte appunto in questi giorni a partire da lunedì con tante tantissime iniziative. Allora, chi di voi prende la parola per prima? Prego. Sì, buongiorno a tutti e tutte oggi siamo in grado di dare il programma completo della settimana del rifugiato con le date certe perché l'ultima volta che siamo state in studio c'era ancora qualche qualcosa da definire quindi ricordiamo a tutti che Arci Rieti e il Samaritano DB sono enti gestori dei progetti SAI del Comune di Rieti e come ogni anno da un bel po' di anni da circa 15 anni a questa parte organizziamo insieme la giornata mondiale del rifugiato quest'anno abbiamo deciso di organizzare la settimana del rifugiato e quindi riempire la città di eventi culturali per la settimana che va dal 19 al 23 di giugno quindi partiamo lunedì e gira già la locandina con tutto il programma la novità di quest'anno poi aggiungo Valeria che non siamo gli spettacoli o gli eventi saranno itineranti quindi dislocati in diversi punti della città proprio per essere accessibili a tutti e per cercare di coinvolgere il più pubblico possibile è interessante anche qualcosa ho letto sulla cosa sulla cucina anche sì 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 la cucina non può mai mancare diciamo quando si parla di integrazione mi ricordo quando etnicamente che abbiamo fatto tanti anni fa dove per la prima volta ho assaggiato il cusco e io da ignorante in materia ne ho preso proprio poco poco e poi sono andata a riprendere l'altro perché anche se sono sapori diversi però sono ottimi allora sono curiosa e ce la faccio di partecipare a queste iniziative bene allora Paola noi iniziamo lunedì perfetto 19 all'auditorium Varrone alle 21 e 30 con una performance teatrale di Francesco Piobbichi Francesco Piobbichi è innanzitutto un attivista di Mediterranean Hope che è un progetto di salvataggio in mare della Chiesa Ventista poi è anche una persona che ha deciso di mettersi dalla parte dei braccianti sfruttati per cui in collaborazione con altri soggetti ha creato un ostello a Rosarno che ospita i braccianti che non sanno dove vivere per cercare di dargli una sistemazione dignitosa quindi diciamo una persona che ha fatto della sua arte cioè della sensibilità verso questi temi arte e anche ragione di vita dico arte perché poi lui è un disegnatore è un sì lui diciamo rappresenta graficamente le esperienze che ha avuto sia di salvataggio in mare sia di sostegno ai braccianti nel sud Italia in questa performance lui praticamente proietterà delle immagini racconterà le storie delle persone che ha incontrato in mare e su terra e quindi nel racconto diciamo di questi piccoli spaccati di vita vissuta cerca di spiegare al pubblico qual è la realtà a volte molto molto dolorosa e faticosa di chi giunge in Italia e poi si trova comunque anche se riesce a iniziare ad avere una condizione di vita decente però si porta sempre dietro questo filo spinato lui disegna sempre i personaggi dei suoi disegni sono sempre avvinghiati da questo filo spinato che un po' rappresenta le difficoltà che hanno vissuto e che purtroppo a volte sono così traumatiche come quella la testimonianza di un ragazzo che abbiamo intervistato mesi fa piuttosto era ospite vostro che raccontava le difficoltà che ha avuto per raggiungere qui da noi è stato anche magari visto in carcere ha dovuto affrontare delle violenze delle cose pur di arrivare in Italia sì perché sai Paola molto spesso sulla stampa si parla soltanto del momento finale si parla dell'arrivo del barcone che affonda della fatica per arrivare ma prima di quello ci sono dei percorsi di vita incredibili inenarrabili se vuoi anche difficili da raccontare alle persone quindi questo insomma è un po' il tentativo che vogliamo fare lunedì con Francesco Piobbichi attraverso l'arte il disegno il racconto far arrivare una visione più completa del percorso che compie un migrante o un richiedente asilo per arrivare in Europa io me l'ho chiesto qualche tempo fa dice ma se loro debbano pagare i trafficanti per arrivare a noi non farebbero prima prendere un aereo e arrivare in Italia certo come no sarebbe fantastico però purtroppo appunto non viene rilasciato un visto ecco questa è la difficoltà perché appunto se un americano o io voglio andare negli Stati Uniti chiedo un visto voglio andare in Senegal chiedo un visto che mi viene concesso e parto non è la stessa cosa invece per un senegalene un nigeriano un eritreo un maliano ma comunque pur se fossero ad ottenere un visto è sempre un visto turistico che non è che gli consente di stare qua anche qualora dico ci riuscissero il problema è che non si riesce ad entrare legalmente nel nostro paese Europa ormai è blindata certo e infatti lo spettacolo questa performance teatrale ci racconta proprio quanto è difficile attraversare le frontiere e è proprio lì che avvengono questi episodi di maltrattamento di violenze di carceramenti esatto suclusi certo delle cose inerarrabili si si porteranno dietro per la vita purtroppo sì che sono difficili da narrare che però occorre sapere bisogna parlarne perché non possiamo chiudere gli occhi di finanza ma anche i giovani potessero venire appunto a questa azione e aprire gli occhi magari su quello che è veramente la realtà chi affronta no è un viaggio veramente della speranza infatti per i giovani abbiamo pensato all'evento della sera dopo perché forse Francesco Piobbi che è per un pubblico magari un po' più maturo per più che altro il tipo di spettacolo che lui fa no e invece martedì sera martedì sera invece alle 21 ci sarà un film di animazione proiettato al cinema moderno quindi in collaborazione col cinema della città è un film che si chiama Flea è un film uscito nel 2022 un film molto importante che è stato candidato a tre premi Oscar nel 2022 come miglior film internazionale come miglior film di animazione e come miglior documentario quindi è un film che ha avuto un enorme successo sia di pubblico che di critica e quindi vi invidiamo a venire è un film di animazione per adulti parla di un ragazzo parla del viaggio di un ragazzo afgano che parte dal suo paese con la sua famiglia per andare in Danimarca e quindi ci racconterà tutta la sua storia della fuga del ritrovare se stesso e anche sullo sfondo c'è la narrazione della storia di tutto quello che avviene che avveniva in Afghanistan al tempo dei talebani e quindi insomma vi invidiamo a venirla a vedere perché è molto bello inizierà alle nove l'ingresso è gratuito e quindi tutti allora abbiamo detto intanto lunedì lunedì alle 21.30 all'auditorio uno spettacolo teatrale e a Varenzio Varrone per chi viene da fuori dieti sì è ingresso libero ingresso gratuito e la stessa cosa anche al cinema moderno di Acinzia di dieti sì sì alle 21 martedì sera ci sarà una locandina a ricordare l'evento davanti al cinema e saremo presenti insomma sui sos parliamo della prossima settimana prossima settimana martedì prossimo martedì 20 perché poi è proprio la giornata mondiale del rifugiato il 20 giugno poi che cosa abbiamo poi saltiamo al 22 già saltiamo il mercoledì sì poi il mercoledì poi andiamo a giovedì 22 con la presentazione siamo alle 17.30 con l'assessora Giovanna Palomba in sala consigliare del comune di Rieti per la presentazione di un progetto che si chiama compagno adulto il comune ha intenzione di istituire un albo per cercare dei volontari che che vogliano fare da accompagnatori accompagnatori a a persone vulnerabili e quindi che mettano a disposizione un po' del loro tempo per per fare compagnia alle persone che non hanno una rete sociale e quindi che possono essere le persone portatrici di handicap per i rifugiati le persone immigrate che hanno bisogno appunto di un accompagnatore che è un bellissimo progetto che ecco il volontario può mettere a disposizione un'ora del suo tempo che lavora che lavora solo la mattina oppure una persona che è in pensione ancora giovane può dedicare il suo tempo sì anche per un invito a fare una passeggiata la domenica un invito a pranzo un invito per passare un'ora o per accompagnarlo alle poste insomma ognuno può dedicare questo progetto Paola ha dietro una riflessione importante che è quella legata al fatto che viviamo in una società che è sempre nella quale siamo sempre più soli quindi non solo le persone vulnerabili ma anche le persone non ritenute socialmente vulnerabili vivono condizioni di solitudine importanti e quindi abbiamo pensato che si poteva affrontare questo tema prendendolo da entrambi i versi cioè un compagno adulto è una figura di riferimento per una persona svantaggiata ma è anche una persona che qualora si sentisse sola trova qualcosa nella quale potersi impegnare no? e mettere le proprie energie quindi in realtà è una di quelle famose azioni che io chiamo a doppio verso che fanno bene sia al cosiddetto utente che a chi è come il volontariato in sé no? certo no no è bello perché come dici tu effettivamente ci sono molte persone che soffrono di te che magari dare il proprio tempo a chi magari si trova un po' spaisato no? o a chi è potrebbe nascere delle amicizie delle compagnie magari potrebbero anche non lo so ospitarli direttamente a casa loro oppure chissà certo e che ne sai di nascere delle collaborazioni perché tante volte è bello queste cose un po' così mi viene in mente un film ho visto di recente non mi ricordo il titolo che un ragazzo di colore ha fatto da badante provvisoriamente no? a un disabile poi è nata una bellissima amicizia e sono storie vere sì sono storie vere quasi amici bravo abbiamo quasi amici è stato un bellissimo film anche se l'avevo già visto e saranno ospiti di questo evento anche sarà ospite anche l'istituto scolastico rosatelli con gli alunni che hanno partecipato al progetto al progetto MAP non mi ricordo onestamente Antonella questo progetto bellissimo e quindi saranno ospiti gli alunni i docenti e la preside sempre al comune giovedì pomeriggio alle 17.30 ci sarà la presentazione da parte dell'assessora di questo progetto compagni adulto e saranno presenti gli alunni dell'istituto rosatelli che ci porteranno dei video realizzati da loro nell'ambito di questo progetto MAP a cui è partecipato l'istituto hanno realizzato questi video sul tema dell'accoglienza e la tutela ambientale sono dei video bellissimi che parlano appunto di amicizia e di relazioni tra i rifugiati e i ragazzi italiani sono molto belli hanno partecipato a un concorso e noi come samaritano abbiamo partecipato alla giuria di questo contest ci sono piaciuti tantissimo insieme a Arci abbiamo deciso di invitarli e quindi saranno presenti anche loro a seguire ci sposteremo alle tre porte e alle tre porte ci sarà questa cena che sarà una cena multietnica sempre giovedì sera mi devo tenere libera esatto però diciamo una cena che siamo costretti a fare su prenotazione perché purtroppo i posti sono ovviamente limitati quindi invito chiunque voglia partecipare a scriverci il prima possibile a riedighiocciolarci.it e poi comunicheremo l'esaurimento posti quando arriverà il momento questa però è a pagamento no 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 anche questa è gratuita perché questa è una cena che noi realizziamo oltre che nell'ambito del SAI ma anche nell'ambito di un'altra progettualità progetto Spiga che è stato finanziato dalla regione Lazio con fondi FSE fondi europei e attraverso il quale abbiamo guidato dei ragazzi in condizioni di disagio in percorsi di formazione abbiamo fatto laboratori di italiano di cucina di terza media cammini educativi sostegno psicologico una serie di attività e il 22 chiudiamo questo progetto con un evento finale nel quale appunto i ragazzi che hanno frequentato il laboratorio di cucina si esprimeranno in piatti e ricette dei loro paesi di origine e quindi dovremmo avere diciamo una cena a tema Afghanistan Pakistan e poi approfitteremo per consegnare ai ragazzi e alle ragazze gli attestati di partecipazione e poi ci sono quattro ragazzi che hanno stanno sostenendo in questi giorni adesso in questo momento gli esami per la terza media e quindi contiamo di festeggiare anche quattro licenze medie il diploma no no sono veramente cose bellissime veramente un programma ma non è finito non è finito non è finito perché poi il giorno dopo ecco sì il 23 invece il 23 saremo in moschea alle ore 18 per la presentazione di un libro filosofia del dialogo interreligioso con la presenza dell'autore e il professore Roberto Celata Ballanti che è un professore di filosofia morale presso l'università di Genova e saranno presenti abbiamo invitato anche tutti i rappresentanti dei diversi culti presenti a Rieti per poi poter aprire una tavola rotonda dopo la presentazione del libro siamo molto contenti di essere in moschea che così con questa occasione appunto per farla visitare per visitare questo luogo di culto che è aperto a tutta la cittadinanza e l'associazione Area B insieme ci tiene appunto a questo c'è venerdì 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 pomeriggio alle 18 lì dobbiamo essere puntuali diciamolo a tutti e a tutte perché poi ci sono gli orari di preghiera in moschea quindi non possiamo iniziare troppo tardi e slittare loro sono molto precisi sì infatti e poi concludiamo concludiamo con il concerto con la musica come non poteva mancare la cucina non può mancare neanche la musica abbiamo invitato un'orchestra la piccola orchestra di Tor Pignattara che è un'orchestra che si è formata con ragazzi e ragazze di seconda generazione che vivono a Roma e che appunto raccontano con la musica la propria esperienza non ho capito dove si svolge si svolge al Birshiva ai Pozzi località Pozzi perché Birshiva non tutti lo conoscono certo però questo i giovani lo conoscono Paola quindi noi speriamo che almeno il venerdì sera vengano i famosi non intercettabili giovani ecco va bene e così concludiamo ringraziamo tutti il cinema moderno il Barsciva l'auditorium Santa Scolastica perché non si chiama più auditorium e varrone ma si chiama auditorium Santa Scolastica la moschea e il comune naturalmente l'assessorato anche le tre porte le tre porte ringraziamo per ospitare questa serata e grazie a voi alle vostre associazioni a tutti i volontari che ci stanno dietro assolutamente gli operatori e i volontari noi ospitiamo normalmente tante associazioni a questo programma e c'è magari il presidente un referente ma dietro a ogni associazione ci sono tanti tanti volontari assolutamente che operano a titolo gratuito e fanno veramente delle cose meravigliose in diversi campi e appunto poi dopo ecco ci sarà anche magari spiegherete man mano anche quello che fa l'Arce e quello che fa il samaritano certo non mancherà a chi partecipa a questi eventi magari dietro ci sta il vostro lavoro e magari far conoscere più a fondo dove siete dove vi trovate quello che fate in modo che i vostri contatti in modo che tante volte tra di loro ci fosse qualcuno che volesse fare volontariato con voi potrebbe essere un'ottima occasione per i nuovi volontari Paola se abbiamo due minuti posso aggiungere un'ultima cosa allora io ci tenevo a comunicare che Arci Rieti in collaborazione con il Nido Diana ODV Euroscuola e Cooperativa Levante in collaborazione anche con Arci Gay e Crisalidea grazie a un finanziamento regionale sempre cofinanziato dall'Unione Europea con gli ultimi fondi strutturali europei del Fondo Sociale Europeo 2021-2027 da ieri abbiamo attivato lo sportello Germoglio presso la sede di Arci Gay in via dei Salici 11 è uno sportello che è destinato a vittime di violenza e discriminazione legate all'identità di genere o all'orientamento sessuale lo sportello è attivo cinque giorni alla settimana lunedì i classici lunedì mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 e il martedì e giovedì dalle 17 alle 19 abbiamo a disposizione per chiunque senta di averne bisogno anche se non è espressamente vittima di violenza o di discriminazione ma anche che sia a conoscenza che voglia affrontare il tema abbiamo a disposizione psicologi avvocato dottore e quindi insomma una serie di figure professionali che possono sostenere le persone che si rivolgono allo sportello con la costruzione di percorsi integrati inoltre abbiamo attivato un numero di telefono attivo H24 per chi non potesse regarsi allo sportello non ha modo di raggiungerci fisicamente il numero di telefono è facilissimo da ricordare purtroppo per una serie di è però è simpatico e quindi aiuta a ricordare una serie di numeri sfortunati che ci sono perché il numero è 0746 quindi il prefisso di rieti poi c'è un 17 che porta male si dice 666 che insomma non commentiamo e si chiude con un 24 che invece è un numero di speranza e quindi ci fa pensare che insomma dopo aver affrontato tante sfortune si possa arrivare anche a un felice epilogo quindi il numero è 0746 17 666 24 rispondiamo H24 chiunque abbia bisogno appunto anche solo di prendere un'informazione avere un chiarimento o discutere e parlare di un tema che gli è caro che non è chiaro sul quale non sa a chi rivolgersi potrebbe essere sia una persona interessata proprio al del tema o un genitore un parente esattamente lo sportello è anche per eventuali genitori che hanno dubbi su come affrontare una questione di identità di genere o di orientamento sessuale del proprio figlio o della propria figlia mi ricordo anni fa abbiamo fatto alla chiesa ventista a piazza dell'angelucci e c'erano giornate a tema no? delle giornate mondiali e abbiamo fatto proprio la proiezione di un film e abbiamo ospitato un ragazzo che oggi è un è un è un medico dei cani un veterinario scusate ma un lapsus in diretta e che appunto non aveva queste difficoltà da bambino poi con l'aiuto dei genitori è riuscito a superare oggi è una persona realizzata insomma ha avuto un buon epirogo bene e se avete una locandina noi come Cesseculazio lo attaccheremo sicuramente volontieri abbiamo già inviato dei comunicati stampa ma insomma adesso poi e poi ecco ti ricordi il numero Paola? allora 0746 17 666 24 bravissima hai visto che si ricorda così si ricorda speriamo che se lo ricordino anche gli ascoltatori altrimenti c'è anche Arci Rieti no? c'è sempre certo rieti chiocciolarci.it noi siamo a piazza capur numero 9 siamo aperti tutti i giorni quindi potete eventualmente dare i contatti certo assolutamente e invece il samaritano sta a via Sant'Agnese via Sant'Agnese 26 il nostro numero di telefono è facile anche il nostro 0746 48 55 54 abbiamo la pagina facebook del progetto SAI Caritas SAI e la nostra mail che è rifugiati caritas chiocciola gmail.com io veramente sono veramente contenta di ospitarvi ogni volta perché avete tante belle novità tanti progetti e anche quello delle biciclette è ancora in voga sì sì abbiamo una la ciclofficina sempre in via Sant'Agnese numero 6 al piano terra quindi sotto i nostri uffici e che oraria è il martedì e il giovedì il pomeriggio è un luogo appunto dove si riparano le biciclette è un servizio gratuito è un luogo di incontro è un luogo di incontro dove chi vuole può arrecarsi può riparare la bicicletta anche gonfiare semplicemente le ruote fare manutenzione alla bicicletta ma non si non si lascia e si riprende come dal ciclista ma si ci si ferma per passare un po' di tempo insieme e riparare insieme sì per riparare insieme abbiamo due ragazzi rifugiati che si occupano di questo servizio e vi aspettano per fare due chiacchiere e sistemare le biciclette allora io naturalmente faccio un appello noi ritiriamo anche biciclette vecchie usate biciclette che non si usano più perché con i pezzi di ricambio facciamo aggiustiamo le biciclette che possono essere ancora usate oppure magari se sono ancora in buono state le volete donare che esseranno le persone che usufruiscono dei progetti del samaritano certo allora io veramente grazie grazie a te a voi con tutto l'entourage che c'è dietro di voi e ringrazio Radio Mondo per questo spazio e vi do appuntamento a martedì prossimo grazie e arrivederci a presto avete ascoltato Rete Solidale a presto a presto a presto a presto a presto a presto a presto